Musica 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 Bisogna sempre stare sul pezzo perché ogni partita è fondamentale questo ha maggior ragione perché è uno scontro diretto e assolutamente dobbiamo pensare di affrontare questa domenica e questa partita come abbiamo affrontato le altre ecco lavorando bene durante la settimana per arrivare al meglio la domenica no questo è assolutamente vero abbiamo un gruppo di ragazzi che hanno voglia di lavorare ma soprattutto siamo siamo qua in un ambiente in cui ci permette di lavorare bene di poter sbagliare di poter crescere a livello personale calcisticamente che questo penso sia una cosa importantissima per ogni giocatore appunto per questo dobbiamo sfruttare e prenderci magari le nostre responsabilità anche sbagliando perché tutti sbagliano proprio questa è la forza del gruppo e dell'ambiente Musica 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 Assolutamente come abbiamo visto il campionato difficile ripeto attraverso il lavoro il sacrificio il lavoro di tutti i giorni ecco anche perché siamo in un ambiente in cui ci permetti di lavorare al meglio ecco anche i tifosi ci danno sempre un sostegno anche ripeto anche l'anno scorso magari quando siamo partiti in salita ci hanno sempre sostenuto quindi è un ambiente in cui si può lavorare bene poi sta a noi sta a noi saper migliorare saper lavorare sacrificio di tutti i giorni forse lo ripeterò for troppe volte ma è un tifoso è una cosa che a noi ci dà un sostegno importante ecco non solo come abbiamo visto in casa ma anche a Bologna in trasferta ci hanno seguito in tanti davvero tanti e noi cerchiamo di ripagarli la domenica dando le prestazioni ecco perché poi attraverso le prestazioni il lavoro arriveranno i risultati ecco Musica 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 Sì ma questa è stata la nostra forza l'anno scorso ed è quella di quest'anno ecco io penso attraverso attraverso alcuni valori di gruppo il sacrificio il lavoro ripeto arriveranno i risultati dobbiamo continuare su questo anche perché qua il gruppo è importantissimo Musica 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 Sì 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 no 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 il Genoa è stata una una mia parentesi della mia piccola carriera ecco e sì mi ha permesso di 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 venire al calcio vero ecco le ringrazierò per sempre ma domenica saremmo avversari e cercheremo di portare a casa i punti sì assolutamente poi venendo dalla classifica è uno scontro diretto assolutamente anche se loro non penso a livello di di singoli giocatori non meritano quella classifica ma quindi appunto per questo sarà una partita dura e tosta cambiando anche allenatore saranno ancora più motivati e penso che l'hanno preparata bene la partita avendo anche la sosta Musica